Il video rappresenta al giorno d'oggi il mezzo più diretto per comunicare con i giovani che quotidianamente usano questo linguaggio. Attraverso un filmato di pochi minuti, infatti, aziende e scuole possono presentare le loro opportunità di lavoro e formazione utilizzando la veste e di contenuti più adatti. Career Clip, divisione del network Mercurius, realizza video per la promozione di aziende e denti di formazione, affiancando il cliente in ogni fase della produzione. I redattori progettano la struttura del filmato e ne elaborano la sceneggiatura, la troupe effettua le riprese e i professionisti di editing e grafica si occupano della post-produzione, in un mix efficace di creatività, competenza e professionalità. Realizziamo un video su misura che sappiano esaltare le caratteristiche della scuola così come dell'azienda, il sistema dei valori e le opportunità a disposizione dei giovani talenti. Proponiamo ad esempio video di recruiting rivolti a laureati e young professionals, riprese di eventi, presentazioni e interviste a dipendenti e ex allievi per attirare l'attenzione di studenti ed executive. Career Clip supporta il cliente anche nella fase di distribuzione del video, curando gli aspetti che ne assicurano il successo finale, dall'utilizzo di potenti server per una visione fluida alla personalizzazione del player, sino alla strategia di distribuzione sui canali più adatti affinché il video raggiunga il target desiderato. Forniamo al cliente anche una piattaforma per la gestione delle statistiche di visualizzazione dei video che consente di sapere in ogni momento la provenienza dei visitatori e avere quindi una conferma immediata dell'efficacia del messaggio. Per il vostro prossimo video affidatevi a Career Clip. Per il vostro prossimo video affidatevi a Career Clip. Per il vostro prossimo video affidatevi a Career Clip. Per il vostro prossimo video affidatevi a Career Clip. Per il vostro prossimo video affidatevi a Career Clip. Grazie a tutti.